In primo piano Rimini, stupri, verrà ascoltato il mediatore ex cooperativa Laimomo perché indagato per istigazione a delinquere. E a Riccione mancate ordinanze di vieto di balneazione, è stato chiesto in invia a giudizio per il sindaco Renata Tosi. E parleremo anche della regione Emilia Romagna al centro, i dati Istat sul lavoro, disoccupazione in calo. E infine torniamo a Rimini per parlare di una mostra fotografica, riflessi e riflessioni, vetrine storiche dei negozi. Ben ritrovati con la nostra informazione, torniamo a parlare degli stupri di Rimini perché sarà ascoltato dal pubblico ministero il mediatore ex cooperativa Laimomo perché indagato per istigazione a delinquere a seguito delle frasi shock che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook, in particolare nel servizio curato da Marcello Bartolini. Sarà sentito a breve dagli investigatori Abid Gil, 24enne ex mediatore culturale pakistano della cooperativa Laimomo, indagato dalla procura di Bologna per istigazione a delinquere dopo il post su Facebook all'indomani delle violenze sessuali di Rimini. Lo stupro è peggio solo all'inizio, aveva scritto. Allo straniero è stato infatti notificato un invito a comparire. Sulla vicenda aveva aperto un fascicolo il procuratore aggiunto, Walter Giovannini, coordinatore del pool Fasce Deboli, delegando le indagini alla squadra mobile. Intanto hanno suscitato polemiche le frasi a Matrix del padre dei due fratelli minorenni marocchini accusati di far parte del gruppo di stupratori ora in carcere. Sono ragazzini, fra due e tre anni usciranno e per lavorare si faranno una vita. Ieri non era stato tenero il sindaco di Rimini, Andrea Agnassi. Quelle frasi aveva detto, oltre a mettere in rilievo un preoccupante contesto familiare, culturale e morale, sono inaccettabili innanzitutto per le tre persone oggetto di violenza bestiale e quindi per la comunità riminese, anch'essa in qualche modo costretta nella parte di vittima davanti ai fatti di quella notte agghiacciante. Sentire le parole del padre significa non aver compreso per nulla la gravità e l'orrore delle violenze. Un fatto del genere non capita, non si risolve con un paio d'anni di soggiorno in carcere e poi si esce e si torna a fare la propria vita. Oggi sulla vicenda è intervenuto anche il procuratore aggiunto, Walter Giovannini. Ho letto le parole sui giornali, ha commentato Giovannini, interpellato sul punto. E credo che debbano far riflettere molto perché forse questa è la percezione che la gente ha del nostro sistema penale. Ed ora la cronaca, parliamo di una spaccata avvenuta nella notte, i danni di un negozio, un salone di parrucchieri. I malviventi hanno messo a segno una spaccata, Marina Centro, a Rimini i soliti gnoti sono entrati in azione intorno alle 5 prendendo di mira un salone di parrucchiere in viale. Beccadelli utilizzando una riete hanno sfondato la vetrina e hanno causato danni ingenti come riporta il quotidiano online Rimini Today. All'interno, una volta all'interno, hanno fatto piazza pulita di attrezzature e anche di prodotti. La montare è ancora in corso di quantificazione ma stando a alcune indiscrezioni si parlerebbe di diverse migliaia di euro. Solo la mattina il colpo è stato scoperto dai titolari del negozio che hanno dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri al vaglio degli inquirenti dell'arma, le telecamere al circuito chiuso che sorvegliano la zona con la speranza che dalle immagini possano emergere elementi utili per risalire agli autori del colpo. Ed ora invece andiamo a Riccione, parliamo di un'indagine al centro, le presunte mancate ordinanze di vieto di balneazione, per questo è stato chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Renata Tosi, i particolari in questo servizio. Rischia di navigare in acque tormentate il sindaco di Riccione Renata Tosi per la quale è stato chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito di un'inchiesta riguardo all'omissione o ritardate ordinanze temporanee di divieto di balneazione. L'accusa è quella di aver omesso ritardando l'attuazione ordinanze temporanee di divieto di balneazione in un tratto del litorale riccionese. Non sono né sorpresa né turbata, ha commentato ero e resto serena così come ripongo immutata fiducia nel lavoro della magistratura. Sia durante il mio interrogatorio e sia successivamente adesso ho consegnato ai magistrati una relazione dettagliata ed esaustiva e tutta la documentazione in merito in cui si evince chiaramente che ho cito secondo le normali regole la prassi amministrativa, spiega il primo cittadino da Perlaverde, firmando e rispedendo indietro per via telematica tutte le ordinanze relative ai divieti di balneazione che mi sono arrivate dagli uffici tecnici. Sono perciò convinta, aggiunge, di aver precisato tutto quanto mi era stato contestato e penso che la richiesta del pubblico ministero possa per questo servire ad accertare la mia totale correttezza rispetto ai fatti oggetto dell'indagine. Resta comunque una vicenda, conclude, sulla quale è necessario fare completa chiarezza. Ho sempre fatto il mio dovere di sindaco, rispettando la legge e tutelando l'interesse e la salute dei cittadini. In Emilia Romagna il 92,4% dei bambini nati dal 2012 al 2016 è in regola con le nuove vaccinazioni obbligatorie gratuite previste dalla legge per poter frequentare le scuole di infanzia, ovvero nidi e materne. 171.660 bimbi su un totale di 185.665 hanno completato, fanno sapere, all'interno ciclo vaccinale i richiami stabiliti, la varicella è obbligatoria per i nati dal 2017. Sono invece quasi 14.000 i bambini richiamati per concludere il ciclo delle vaccinazioni. Nella maggior parte dei casi manca il vaccino MPR, morbillo, parotite, rosolie, la terza dose di esavalente, difterite, tetano, pertosse, poliomelite, epatite B, emofilo B alle famiglie. È già stata inviata direttamente a casa la lettera con il relativo appuntamento per effettuare le vaccinazioni. Oppure i richiami dai dati elaborati attraverso l'anagrafe vaccinale della regione, aggiornati al 30 giugno e Ravenna, la provincia con la percentuale più alta di bambini in regola, il 94,4%, oltre 10 punti in più di Rimini che resta in coda con l'84,2%. Le altre province, Piacenza 91,6%, Parma 93,5%, Reggio Emilia 93,8%, Modena 93,4%, Bologna 93,6%, Ferrara 92,6%, Forlì 91,5%, infine Cesena con il 90%. E adesso andiamo avanti, parliamo di sostegni alle imprese, un aiuto concreto in particolare alle nuove imprese che nascono per quanto riguarda il territorio di Rimini. Il Comune ha approvato delle linee guida definite no taxare, ovvero per sostenere le nuove imprese nel pagamento delle imposte locali, particolari in questo servizio. Una mano tesa per sostenere le nuove imprese del territorio grazie alle linee guida della no taxare approvate dall'aggiuta del Comune di Rimini, si tratta di contributi per il pagamento delle imposte locali. Le linee prevedono contributi per quanto riguarda la Tari, i CP e Cosa, tre nello specifico le categorie di beneficiari in linea con i tre macro obiettivi prefissati. I contributi infatti saranno destinati a chi apre oppure trasferisce un'attività nell'area del centro storico dei borghi, come San Giuliano, Marina, Sant'Andrea e San Giovanni, alle nuove imprese che dimostrano di aver prodotto effetti occupazionali avendo attivato contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato di durata continuativa, si legge di almeno sei mesi, oppure contratti di apprendistato o rapporti lavoro subordinato full time con collaboratori familiari. Infine potranno accedere ai contributi titolari o soci che alla data di costituzione dell'attività abbiano un'età inferiore a 40 anni. Stando all'andamento registrato negli ultimi tre anni, secondo le stime fornite all'amministrazione potrebbero essere quasi un centinaio le imprese rientranti nei criteri stabiliti. Sono invece esclusi dai benefici, indipendentemente dalla zona di insediamento, alcune tipologie di attività, tra cui quelle dove sono presenti slot machine oppure videolotteri, i comprooro, phone center e internet point, istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie assicurative, imprese, agenzie immobiliari e negozi che vendono tabacchi, sigarette elettroniche, armi, sexy shop. Abbiamo rimodulato e rivisto il pacchetto di agevolazione che avevamo già proposto nel 2015? Spiega l'assessore dell'attività economica Ishamissa De Golvada, anche a seguito dei confronti con l'associazione di categoria. Abbiamo individuato tre obiettivi che riteniamo prioritari, dice, la valorizzazione del centro storico dei borghi in modo da potenziarne l'attrattività e la dinamicità. Lo sviluppo dell'occupazione conclude e quindi il sostegno a che crea posti di lavoro. Nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio in dei capannoni agricoli su via Coriano nel territorio comunale di Riccione. Le fiamme si sono sviluppate da un capanno che ospitava una legnaia e un deposito di attrezzi. Le fiamme hanno causato un'alta colonna di fumo ma non risultano feriti. Due cavalli sono scappati e sono stati poi recuperati sul posto al lavoro i Vigie del Fuoco, la Polizia Municipale e anche la Polizia di Stato. Domani, 15 settembre, alle ore 17, presso la Sala della Giunta del Comune di Rimini verrà formalmente consegnato a Jessica Notaro, la ragazza riminese, aggredita l'11 gennaio scorso e lo stanziamento economico erogato dalla Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime di reati su richiesta inviata dal Sindaco di Rimini, Andrea Agnassi. La somma viene erogata direttamente all'interessata in segno di solidarietà. Si legge per la grave violenza subita e a parziale rimborso per le spese mediche che sta affrontando le mancate entrate connesse al suo lavoro. Saranno presenti alla cerimonia Jessica Notaro, il Presidente della Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime di reati Carlo Luccarelli, il Presidente della Regione Emiliano Romagna Bonaccini, l'assessore alle pari opportunità della Regione Emiliano Romagna Emma Petitti, il Sindaco di Rimini Andrea Agnassi e il Vice Sindaco del Comune Gloria Lisi. Parliamo ancora di lavoro di economia. Allargando lo sguardo alla Regione Emiliano Romagna lo facciamo attraverso i dati forniti dall'Istat per quanto riguarda il lavoro dai quali emerge che è in calo in Regione la disoccupazione, in particolare nel servizio curato da Alessio Bertini. Continua a scendere la disoccupazione in Emilia Romagna, arrivata al 6,4% a metà di quest'anno. Si tratta di un punto in meno rispetto a un anno fa. E quanto emerge dai dati Istat sull'andamento del mercato del lavoro nel secondo trimestre del 2017, nei secondi tre mesi di quest'anno, gli occupati regionali sono oltre 65 mili in più, più 3,4%. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è al 69,1% più alto sia rispetto alla media italiana che a quella del nord-est del paese. Si tratta del valore più elevato tra tutte le Regioni ad eccezione del Trentino Alto Adige. Guardando sempre al periodo in esame, il tasso di attività regionale, che misura il livello di partecipazione dell'intera popolazione al mercato del lavoro, e pari al 73,6%, dato più alto tra tutte le Regioni italiane, vince la componente maschile, anche se quella in rosa, rimane comunque la più elevata nell'intero panorama nazionale. Esulta il presidente di Regione Stefano Bonaccini, che ricorda come a inizio 2015 il tasso di disoccupazione avesse raggiunto il 9%. Oltre due punti e mezzo recuperati, quindi, continua il governatore, grazie alla firma con le parti sociali del patto per il lavoro. L'obiettivo, conclude Bonaccini, è arrivare a un livello di disoccupati pari al 4,5%. Ed ora con la cronaca andiamo a Follì, ladro in solitare, in azione alla lavanderia Sal Service di Via Cerchia. L'episodio è avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, poco dopo le 5.30. A chiedere l'intervento del 113 è stata una residente che ha avvertito dei forti rumori al pian terreno della palazzina dove abita, scoprendo che un malvivente stava completando la razza di banconote e monete all'interno del negozio. L'individuo ha preferito dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce, abbandonato per terra a parte del bottino. Sono state trovate delle monete sul pavimento e riposte poi in un sacchetto. Secondo quanto appurato degli agenti della volante e della questura di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi, il malvivente è riuscito ad entrare dopo aver forzato una finestra laterale, quindi ha puntato alle cassette dei macchinari dove ci sono gli incassi. Quello delle banconote è stato trovato ripulito. Ed ora torniamo a Riccione per parlare di rette mense scolastiche, un ammanco pari a 200.000 euro di soldi non versati, in particolare nel servizio curato da Marcello Bartolini. 200.000 euro di rette delle mense non pagate a Riccione sia nelle scuole comunali che in quelle statali. Il fenomeno dell'evasione dei tributi nella Perla Verde si è intensificato negli ultimi anni e il Comune è impegnato in procedure che spesso sono complesse e richiedono un impegno continuativo. L'assessorato ai servizi educativi ha avviato un'attività di verifica dei mancati pagamenti a partire dal 2013, riscontrando un numero importante di cittadini ad impienti, alcuni dei quali non hanno nemmeno presentato come richiesto l'ISE, ovvero l'indicatore della situazione economica equivalente. Per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 sono già state avviate le notifiche e i relativi procedimenti sono in carico all'ufficio tributi. Per quanto riguarda l'anno scolastico 2015-2016, l'ufficio RET del Comune di Riccione sta proprio in questi giorni effettuando tutte le verifiche necessarie all'accertamento delle irregolarità. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, l'assessora ai servizi educativi, Alessandra Battarra, ha avviato una serie di colloqui personali con le famiglie che hanno i figli iscritti al servizio Mensa e che per il 2016-2017 non sono in regola con i pagamenti. La questione dei tributi non pagati comporta conseguenze sull'intera collettività, evidenzia l'assessore Battarra, perché queste somme devono poi necessariamente essere coperte dal Comune stesso. Non ci può certamente parlare genericamente di furbetti, perché ci sono famiglie che vivono delle difficoltà o sono in situazioni di necessità contingente, a cui dovremo far fronte. Proprio per questo sto incontrando personalmente questi genitori. In alcuni di questi casi dovremo provvedere anche da un punto di vista sociale di sostegno al reddito. Sono oltre 200 mila gli euro non versati. Per le rette della mensa scolastica, l'assessore Battarra ha iniziato i suoi incontri con le famiglie che hanno i figli iscritti, alla Nica Brandi e in quegli istituti che prevedono un maggior numero di rientri, quindi di passi a scuola. Ed ora andiamo a Cesena, dove domenica 1 ottobre ospiterà un evento storico. A 31 anni, infatti, dalla visita di Papa Oitila, in città arriverà Papa Francesco per festeggiare, si legge, insieme alla città ai 300 anni dalla nascita di Pio VI, Papa Branschi, e ad attenderlo nelle piazze e nelle strade del centro storico. Secondo stime approssimative, potrebbero esserci almeno 25 mila persone già dalle prime ore dell'alba. A voler la sua presenza a Cesena ottenerla, grazie alle sue gentili insistenze, è stato il Vescovo Douglas Regattieri, molto orgoglioso del risultato ottenuto. Il 31 agosto scorso sono stato ricevuto in un'udienza privata al Santo Padre, ha spiegato ieri il Vescovo. Sono stati 20 minuti addetto di immensa gioia per me, in cui l'ho ringraziato in anticipo per la visita e l'ho informato su alcune situazioni relative a quella giornata e tutte le persone che avrebbero voglia di parlare con lui. Sono davvero tante, ha detto, e molto contento di venire a Cesena, anche perché non è mai venuto nella nostra città. Sono sicuro che sarà, conclude, un bellissimo momento per Cesena. Ed ora invece parliamo di scuola, perché domani suonerà la campanella per migliaia di studenti in tutta Italia, ovviamente anche per quelli dell'Emilia Romagna, si stima che torneranno sui banchi 620 mila studenti in regioni particolari in questo servizio. Domani in Emilia Romagna la campanella darà inizio al nuovo anno scolastico per 620 mila studenti. Per 70 mila di loro sarà il primo giorno, un anno particolare, segnato dall'obbligo vaccinale per l'iscrizione, con la corsa agli appuntamenti presso le Hausle e la compilazione delle autocertificazioni da presentare in classe. Ma non faremo posti di blocco, ha assicurato il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Stefano Versari. Evitare ogni situazione conflittuale è il mantra del provveditore, ma assicura anche, le famiglie che si ostinano a non voler rispettare l'obbligo saranno segnalate all'Ausle e quindi all'autorità giudiziaria. Guardando le classi, l'attenzione negli ultimi anni si è concentrata sugli alunni stranieri. L'anno passato erano circa 90 mila, ovvero il 16,6% dell'intera popolazione scolastica regionale. Per quello che sta invece per iniziare, mancano ancora i dati definitivi. Le classi funzionanti, saranno quasi 25 mila, tra docenti e personale ATA, sono attivi quest'anno oltre 70 mila posti, in aumento rispetto al passato, sottolinea Versari, che replica così alla CGL, che ha lanciato uno stato di agitazione a livello nazionale per il personale tecnico-amministrativo. Oltre che sull'organico, i sindacati protestano infatti anche per la decisione del Ministero di fare ai supplenti ATA contratti non per tutto l'anno in corso. Questo perché, replica Versari, a marzo ci sarà la graduatoria che assegnarà il posto a chi ne avrà legittimamente diritto. E valiamo ancora di scuola, perché domani è il giorno dell'inizio del nuovo anno scolastico. Il presidente della regione, Emilia Romagna Bonaccini, sarà alle 8.30 a Mondaino, nel Riminese, all'inaugurazione del complesso recentemente riqualificato che ospita la scuola elementare. Don Sebastiano Sanchina, media fratelli Cervi, la materna Luigi Carnevale, alle 11.00, andrà poi a Carpi, in provincia di Modena, all'Istituto Tecnico Commerciale Meucci, per l'inaugurazione della nuova palazzina, con 15 aule e ampliamento realizzato grazie ad un contributo di 1.680.000 euro attraverso i Mutui Bay 2015 nell'ambito del piano regionale per l'edilizia scolastica. E ancora parliamo di scuola, questa volta Rimini, perché si sono svolte l'11 e il 12 settembre le giornate di benvenuto per tutti gli studenti in iscrizione ai quattro corsi di laurea internazionali della Scuola di Economia, Management e Statistica Campus di Rimi, Università di Bologna, provenienti da quattro continenti. Si registrano numeri in costante crescita sia da parte di studenti italiani che di studenti stranieri che si iscrivono ai corsi di laurea impartiti interamente in lingua e inglese. Si pongono come primo momento di inserimento in università per i nuovi studenti provenienti dalla Russia, Bielorussia, Cina, Vietnam, India, Ucraina, Slovacchia, Germania, Polonia, Turchia, Albania, Iran, Etiopia, Brasile, Peru, Messico e Italia. Ed infine restiamo a Rimini per parlare adesso di una mostra fotografica, riflessi e riflessioni protagoniste delle vetrine storiche dei negozi dai primi del Novecento del secolo scorso fino agli anni Ottanta, in particolare in questo servizio. Un viaggio tra le vetrine del centro storico della città di Rimini del secolo scorso, dagli inizi del Novecento agli anni Ottanta. Si tratta di riflessi e riflessioni della mostra ospitata da sabato 16 settembre alla Farf, Fabricarte, Rimini, nell'ambito della rassegna Rimini foto d'autunno. Oltre 100 scatti raccolti e selezionati dallo studio paritane di Rimini. Un'attenta ricerca che riporta la data e il nome delle attività ancora attive o chiuse da tempo. Una sequenza di cento opere che ci permettono di fare un tracciato storico della nostra città e di cosa sono state nei decenni scorsi queste vetrine. Quindi credo che non solo il pubblico riminese ma anche i turisti che passano in città possono avere un racconto della città stessa attraverso questi occhi. L'iniziativa è organizzata dall'azienda di Borg associazione che sostiene le imprese riminesi per valorizzare il commercio e risvegliare con forza il senso di comunità che pervadeva la città in quegli anni. Il garbo della semplicità dei negozi e delle vetrine delle insegne al neon. La mostra o comunque la manifestazione che è intitolata Riflessi e riflessioni si divide in due momenti. I riflessi riguarderanno la parte fotografica e qui alla sala del FAR sarà possibile ammirare e visitare la mostra fotografica che è intitolata Cento anni di vetrine. Contestualmente abbiamo organizzato due incontri diciamo anche questa è una novità per Rimini perché tratteremo dei problemi del commercio del piccolo commercio riminese. In questi due incontri il 3 di ottobre 5 di ottobre alle ore 21 gli invitati sono certamente di spessore. Vogliamo aprire una discussione perché di commercio e questo ce ne doliamo non ne parla praticamente nessuno. Bene, questo era l'ultimo servizio. Il telegiornale termina qui. Come sempre vi ricordo che i nostri servizi e contenuti possono essere consultati anche online andando all'indirizzo www.telerimini.it dove è possibile seguire in diretta streaming anche il nostro telegiornale. Bene, con questo è davvero tutto. Grazie, come sempre, per la cortesa e attenzione. Appuntamento domani.